Musica Utile di quasi 2 milioni di euro, indici patrimoniali estremamente confortanti, conferma della crescita della solidità della banca. Inizio dei lavori di costruzione della nuova sede sociale. Sono numeri e valutazioni che imprimono molta soddisfazione al management di Banca Macerata. Il presidente Ferdinando Cavallini, il direttore generale Francesco Rescigno, il vice direttore generale Rodolfo Zucchini, il fondatore e presidente onorario Loris Tartuferi. Abbiamo chiuso un bilancio 2020 che nonostante il periodo della pandemia vede degli ottimi risultati. Si chiude con 2.739.000 euro di utile lordo e 1.856.000 di utile netto. È interessante, al di là dell'utile, evidenziare che pure in un periodo di estrema difficoltà sono cresciuti gli importi della raccolta diretta, che ha fatto un più 13%, quella della raccolta in diretta più 10%, quella dell'interbancario addirittura più 27%, ma dato ancora più significativo quello degli impieghi verso la clientela, più 10%. Significa che nonostante le ristrettezze, le difficoltà, la banca ha concesso credito alle imprese, alle famiglie. Riteniamo, dando un valido contributo a che si esca da questa pandemia, da questa problematica, nella maniera migliore possibile. Chiudere il bilancio con risultati di rilievo, nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia nell'ultimo anno, è una grande soddisfazione. Innanzitutto siamo cautamente ottimisti, questo va detto perché è un segnale di positività, bisogna mandarlo così è. Sia a livello nazionale, dove si vede che le moratorie stanno scendendo spontaneamente, quindi senza necessità di intervenire. Lo stesso segnale ce l'abbiamo noi, cioè vediamo che molte aziende hanno ripreso i pagamenti senza quindi chiedere ulteriori sospensioni dei pagamenti stessi. Sono segnali positivi, è indubbio che qualche azienda è in difficoltà, questo non lo possiamo nascondere, però ribadisco, ripeto, siamo cautamente ottimisti. Il 15 maggio Banca Macerata ha compiuto 15 anni di attività, all'inizio questa realtà è stata guardata con un po' di sufficienza, diciamo così. Oggi è un'istituzione ammirata, rispettata, che vede anche la fiducia crescente dei clienti. Come ci siete riusciti? Ci siamo riusciti con molto lavoro, lavoro sodo, professionale, con molta passione e con un investimento mirato ai giovani che sono usciti dalle università locali a pieni voti, che si sono dimostrati attenti, vicini agli obiettivi e alla mentalità della nostra banca. C'è una banca che vuole essere del territorio, vuole essere vicina alla clientela e vuole soprattutto avvertire le necessità della clientela. Non ci presentiamo come una banca che in qualche modo vuole imporre determinati prodotti, ma vuole ascoltare il cliente. Questo secondo noi è l'elemento che ci ha consentito di acquisire fiducia in questi anni. Quindi un bel rapporto con la clientela, una conoscenza dell'economia del territorio, ma anche un'accelerazione sull'innovazione? Sicuramente sì. Come sappiamo, il sistema bancario va verso la digitalizzazione. Questo non lo possiamo negare, né lo possiamo trascurare. Quindi anche Banca Macerata sta investendo nella informatizzazione. Tuttavia rileviamo che il rapporto con l'impiegato rimane una cosa importante che la clientela richiede. Quindi il cliente vuole avere un interlocutore certo che trova ogni giorno e quindi si rivolge ai nostri titolari di filiali, ai nostri consulenti finanziari o consulenti di credito con fiducia e questo è l'elemento fondamentale per la banca, il rapporto fiduciario. Aumenta anche il numero dei dipendenti con un occhio di riguardo alle giovani generazioni e alle donne, visto che il numero dei lavoratori è passato dai 70 del 2019 agli attuali 75, di cui 41 sono donne e 34 uomini, con un'età media che rispetto allo scorso anno passa da 38,8 a 38. Come è importante il ruolo di Banca Macerata nel tessuto sociale, sanitario, culturale e sportivo del territorio? Sì, allora, quelli che io definisco i padri fondatori, quando avviarono questa banca misero all'interno dello statuto proprio un obbligo di destinare una parte degli utili per attività appunto di beneficenza, di socialità, di attenzione al territorio. Quindi lo sport per noi significa lealtà dei giovani, abituarsi a crescere appunto in maniera competitiva ma nel rispetto dell'avversario. Quindi è una crescita pulita, sana del giovane che ci piace molto. Sul lato poi culturale e sociale, la banca pure è presente, quindi abbiamo adesso legato il nome di Banca Macerata per tre anni a Musicultura, che sapete essere un evento culturale importante qui del territorio. e saremo il mei sponsor appunto come dicevo per tre anni. Donazioni in campo sanitario sono state fatte e continueremo a farle. E insomma ci ha fatto piacere essere stati tempestivi con delle donazioni che sono andate a vantaggio dei presidi sanitari locali proprio nel momento in cui ce n'era bisogno. Uno dei vostri slogan dice dove vuoi, quando vuoi. Che cosa intendete? Banca Macerata è anche una banca che si muove, nel senso che ha una rete di consulenti, sia interna che esterna, che se il cliente lo richiede è disponibile ad andare in azienda o nelle proprie abitazioni, perché non siamo una banca statica che aspetta il cliente allo sportello. Se è necessario ci muoviamo noi. Svelato anche il progetto della nuova casa della banca, come è stata ribattezzata la nuova sede che sarà costruita in località a cui vive di Macerata, lungo la strada Carrareccia, e che ospiterà la nuova sede direzionale e rappresentativa. Un'operazione che va anche a recuperare un luogo degradato e che contribuirà a migliorare la circolazione stradale grazie alle infrastrutture e ai parcheggi collegati. Il via al cantiere è previsto nelle prossime settimane, con la conclusione indicata nel giugno 2022. Grazie a tutti!